Uno sportello per i cittadini di Cerignola per un reale supporto a 360 gradi è quello inaugurato da Quedotto Pugliese nel centro fantino del Foggiano. Qui abbiamo creato un avamposto della Quedotto Pugliese ed è un fiore all'occhiello per la cittadinanza di Cerignola avere sempre più vicino la Quedotto Pugliese. Stiamo restituendo ai cerignolani un servizio essenziale ed importante. La signora anziana, la pensionata, non dovrà andare più a Foggia per avere un contatto con l'acquedotto e chiedere la tutela di un suo diritto quello di usufruire dell'acqua, il bene primario. Verrà qui, verrà qui da noi e avrà tutta la soddisfazione possibile. Sarà possibile attivare nuovi contratti, richiedere il subentro, le trasformazioni d'uso ottenere informazioni commerciali, copia dalle fatture, estratti conto e ancora la domiciliazione bancaria e postale, l'attivazione delle fatture online l'autolettura, le rateizzazioni. Di questo io sono profondamente grato all'acquedotto pugliese che ha accolto la nostra richiesta, ha formato il nostro personale, ci ha fornito la strumentazione necessaria e qui con noi a gioire di questa giornata. Chi non potrà o non vorrà recarsi alle sedi dell'acquedotto oppure attraverso i canali asingroni potrà rivolgersi direttamente allo sportello che comunica il sindaco ha chiesto e noi abbiamo soddisfatto volentieri questa richiesta. Lo sportello di ACUPI sarà operativo ogni giovedì del mese, dalle ore 16 alle 18.